Spari al quartiere Tamburi di Taranto dove un uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola 25 caffè, qualità, cortesia e tanto cuore è accaduto intorno alle 16 di ieri. Si tratta di un 23enne con piccoli precedenti penali il proiettile esploso da un'auto lo ha raggiunto ad una gamba mentre camminava a piedi in via Masaccio nel noto quartiere sorto ai piedi dell'acciaieria. Immediatamente soccorso è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata per le cure del caso sul posto la sezione scientifica della Polizia di Stato che ha rinvenuto solo un bossolo. Si indaga per fare piena luce su quanto accaduto al vaglio degli inquirenti le registrazioni degli impianti di videosorveglianza della zona. Grazie a tutti.